Buongiorno amici, si sono concluse le qualifiche in Australia, abbiamo visto la pole position di Verstappen che è riuscito a trovare qualcosina in più durante il corso di tutta la sessione per poi appunto stampare in 1.15 e 915. Faccio vedere subito la classifica, eccola qui, con Verstappen in prima posizione, seconda posizione di Sainz che ragazzi è anche lui MVP di giornata secondo me perché ha fatto un lavoro eccezionale. Dopo l'operazione essendo rientrato per questo weekend è riuscito a stare a 270 millesimi dall'olandese, è fatto un ottimo tempo in 1.16 e 1, meglio del suo compagno in squadra, infatti adesso ne parleremo degli errori di Leclerc come non sia stato all'altezza oggi di lottare per la pole position purtroppo perché ovviamente ce lo auguriamo sempre però oggi ha fatto troppi errori Leclerc e andremo a vedere dopo in quali curve e soprattutto come mai ha fatto quegli errori. Terza posizione per Perez che ha fatto il suo, secondo me poteva anche stare davanti a Sainz, anche lui ha fatto bene però poteva fare forse qualcosina meglio. Quarto Norris che addirittura si posiziona davanti a Leclerc con un tempo che, Leclerc ha fatto il tempo migliore di Norris in Q2 e poi in Q3 non è riuscito a replicarlo quindi questo è qualcosa di assurdo. E poi via via tutti gli altri, delusione sicuramente Mercedes con addirittura Hamilton fuori e rimasto escluso in Q2, anche Alonso dietro Stroll e ottima sorpresa Tsunoda che riesce ad arrivare davanti a Ricciardo 18esimo invece Tsunoda 8 nella gara di casa di Ricciardo in Australia. Quindi ottimo lavoro per Tsunoda e delusione per quanto riguarda Ricciardo che gli ha cancellato il tempo però doveva fare comunque qualcosina in più. Andiamo a vedere adesso i tempi ma prima dobbiamo parlare ovviamente di Sainz che ha fatto un tempo clamoroso, un buon 1.16.185. Secondo me ha fatto il massimo di quello che poteva fare però ha fatto comunque anche lui un errorino in curva 9.10. Infatti andremo a vedere dopo anche dalla telemetria. Nonostante ciò lui è riuscito ad andare molto forte nel primo settore per tutte le qualifiche di più rispetto a Leclerc che invece ha fatto un po' più di fatica nel primo settore avendo una macchina che aveva sovrasterzo in uscita e un pochino di sottosterzo in entrata che è quello che ha accusato sempre il Monegasco durante le qualifiche. Se abbiamo detto ieri che Ferrari aveva un assetto migliore rispetto a quello di Red Bull oggi invece si è un po' incasinata la vita tra virgolette nel senso che Red Bull è andata sempre a migliorare soprattutto con Verstappen con l'assetto che è migliorato specialmente nel terzo settore per l'olandese e andremo a vedere anche la progressione dei tempi in qualifica è riuscita anche a correggere il proprio stile di guida per andare più forte. Al contrario Ferrari ha fatto sì un ottimo passo gara nell'FP3 e si è concentrata principalmente su quello. Infatti andremo a vedere come Ferrari, dopo vedremo anche con i tempi, Ferrari riesce a avere meno graining rispetto a Red Bull e quindi anche un degrado minore accusato nell'FP3 anche se poi vedremo in gara se sarà effettivamente così. Però Ferrari si è congettata un po' troppo sulla gara sacrificando un po' le qualifiche e infatti vedremo che Leclerc ha fatto più fatica avendo un posteriore troppo ballerino, troppo leggero e ha fatto quell'errore nell'ultimo tentativo in Q3. Adesso andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i video attivate le notifiche mi raccomando è fondamentale per supportarmi nel mio lavoro e ovviamente escono ogni settimana video e aggiornamenti sulle notizie a tema Formula 1 e durante il weekend, il venerdì, il sabato e la domenica andiamo a commentare tutte le sessioni della Formula 1. Seguitemi anche su Instagram, mi raccomando, il rastro dove pubblico contenuti a tema automotive e vi avviso ogni volta che escono nuovi video qui su YouTube. Ditemi nei commenti il vostro pronostico per la gara, vedete più favorita Red Bull, come vedete la Ferrari può lottare per il podio, può lottare contro Perez, come vedete gli altri team, McLaren per esempio, Mercedes, Aston Martin. Ditemi la vostra, il pronostico del podio, mi raccomando, che così vado a leggere e rispondere a tutti quanti. Ma ora andiamo a vedere subito i tempi, perché sono molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione dei tempi e poi anche i vari settori. Allora, prima voglio farvi vedere i settori, che è la cosa più importante secondo me. Ho preso come riferimento i tempi di Sainz, Verstappen, Leclerc e Leclerc, vedete in questo caso, sono i tempi del Q3, ok, il tempo più veloce della pole position di Verstappen in 1.15.915, poi abbiamo il tempo, il secondo tempo di Sainz, abbiamo il quinto tempo di Leclerc in 1.16.435 e abbiamo invece il miglior tempo del Q2 di Leclerc in 1.16.304, che come vedete anche da qui, dalla classifica, quel tempo segnato a Leclerc in Q2 avrebbe permesso al Monegasco di stare davanti a Norris in Q3. Quindi è comunque un ottimo tempo e questo ci dimostra come il Monegasco non sia riuscito a fare quel salto in più in Q3 per provare a almeno star davanti a Norris ovviamente, magari anche davanti a Perez, magari davanti anche a Sainz. Non dico lottare per la pole che ad oggi era difficile perché avendo il miglioramento di Verstappen non era facile, però almeno una seconda terza posizione era fattibile per Leclerc e dobbiamo dire quando Leclerc sbaglia dobbiamo ammetterlo ragazzi, oggi Leclerc ha sbagliato, ha fatto una scelta troppo aggressiva durante le corse qualifiche di aumentare di 5 click l'incidenza dell'ala anteriore, quindi per avere più grip sulle gomme anteriori e questo ha comportato un posteriore troppo instabile. Infatti abbiamo visto per tutte le qualifiche come Leclerc non riusciva a gestire bene il posteriore, aveva quel sovrasterzo che gli faceva perdere un po' di decimi. Quindi andiamo a vedere tutto nel dettaglio, quindi come ho detto i tempi sono questi. Infatti, la cosa interessante che si vede sono gli errori di Leclerc, iniziamo da quelli. Allora, vedete il tempo in bianco è il tempo di Leclerc l'ultimo che ha segnato con gli errori commessi in Q3, vediamo che ha commesso un errore in questa parte del circuito, quindi primo settore, in questo caso siamo in curva 4-5, ok? Vedete come Leclerc in questo caso ha una velocità di percorrenza minore rispetto a tutti gli altri, perde all'incirca 10 km orari in percorrenza da Sainz, dal suo miglior tempo, 8 km orari dal tempo di Verstappen e 8 km orari dal suo best in qualifica. Poi, se andiamo avanti, vediamo anche qui un grande errore di Leclerc in questo caso, se non sbaglio è curva 6-7, e vediamo come perde tanto in percorrenza, stacca prima perché già aveva fatto un errore in precedenza in questa curva, l'ha ricommesso nell'ultimo tentativo in Q3 e vedete come in percorrenza accusa un distacco in termini in km orari di 12 km orari nei confronti di Sainz, 12 km orari nei confronti di Verstappen e 8 km orari nei confronti del suo best, quindi anche qui ha perso un po', infatti possiamo dire che nel primo settore Leclerc non è mai stato perfetto in qualifica, abbiamo visto sempre un pochino più lento rispetto a Sainz e rispetto in questo caso anche al suo miglior tempo che ha fatto segnare in Q2, la differenza ovviamente tra Q2 e Q3. Andiamo avanti, invece vediamo curva 9-10, ok, anzi prima in curva 9-10 vi faccio vedere come sul rettilineo Ferrari comunque non perde così tanto da Red Bull, è vero che il secondo settore è un settore Red Bull, cioè dove va più veloce perché è più efficiente la RB20 rispetto alla SF24 con la specifica di carico diciamo che hanno selezionato i team, infatti comunque Verstappen ha una velocità di punta maggiore, se vediamo dopo curva 8 arrivando prima di curva 9 vedete che arriva con 323 km orari, ma la differenza in termini in km non è così tanta, anche se vedete il gap qua al delta, Ferrari si perde ma non tantissimo, ok, ha perso di più per esempio Leclerc in questo caso in curva 4-5 con Sainz che invece è riuscito a farla molto meglio, andare più forte e non perdere, anzi ha guadagnato fino al primo settore, se vedete Sainz in questo caso aveva 162, 176, cioè più o meno quasi due decimi di vantaggio nei confronti del tempo dell'olandese di Verstappen, quindi il primo settore Sainz volava, era molto forte, riusciva a sfruttare il potenziale della SF24, poi perdeva un po' di resistenza aerodinamica nei confronti di Red Bull, però non è tanto lì dove ha perso tanto Sainz e Ferrari, il punto dove ha perso di più Sainz l'occasione di fare la pole position è curva 9-10, arriviamo qui vedete come Sainz ha avuto una brutta uscita da curva 10, perdendo all'incirca, fate più o meno 24 km orari nei confronti di Red Bull, infatti vedete 238 km orari per Sainz, 262 km orari per Verstappen, in questo caso per esempio Leclerc prima è riuscito a farla meglio in entrambi i tentativi, sia quello in Q2 che quello in Q3, vedete 254-251 km orari, non all'altezza di Red Bull, nel senso che nelle curve veloci Red Bull rimane superiore a Ferrari, ma non così tanto, non come l'anno scorso, in questo caso Sainz ha fatto un errore che poi è costato anche perdere in accelerazione per arrivare prima della staccata di curva 11, quindi vedete qui quanto perde Sainz, anche in termini di distacco passa ad avere un distacco di 0, avere allo stesso tempo fino a metà, quasi la fine del secondo settore, ad arrivare addirittura a tre decimi e mezzo di distacco in una curva, perde davvero tanto di Sainz nei confronti di Verstappen. Poi l'ultimo settore, vedete come Sainz e in generale anche Leclerc, anche i due tempi di Leclerc, riescono a guadagnare su Verstappen, perché l'ultimo settore Red Bull ha sempre fatto fatica, ha avuto quel sottosterzo che non impediva di arrivare bene al punto di corda. Verstappen è stato molto bravo, secondo me, a migliorarlo nel corso della sessione, infatti faccio vedere una cosa molto interessante, faccio vedere l'evoluzione dei tempi, perché è quello che bisogna vedere, quanto migliorano i tempi durante il corso della sessione. Eh ragazzi, Verstappen è migliorato tanto con i tempi, 16.8, Q1, 16.3, Q2, 15.9, Q3. Vediamo Sainz, 16.7, Q1, gran miglioramento nel Q2, 16.1, e poi però fa lo stesso tempo nel Q3, 16.1. Vediamo Leclerc, quinto tempo, Q1, 16.9, 16.3, Q2, gran miglioramento, e poi 16.4. I piloti Ferrari, rispetto agli altri piloti andando a vedere la classifica, hanno fatto fatica a migliorarsi dal Q2 al Q3, sintomo che qualcosa è mancato, questa macchina è sì più facile da guidare rispetto all'SF23, questo è ovviamente evidente, è più facile da guidare rispetto per esempio alla Mercedes V15, che fa tanta fatica, ma manca ancora quel qualcosina in più per raggiungere il Red Bull, e quando si cerca di strafare, soprattutto in Q3, è difficile portare a casa il tempo. Verstappen ha fatto nel primo tentativo in Q3 subito un 16.0, che l'ha messo tranquillo, e lui quindi non aveva pressione per fare l'ultimo tentativo bene, ok? Al contrario invece i due piloti Ferrari hanno dovuto cercare di spingere al limite fino alla fine, per cercare di migliorarsi e lottare per la pole position, e questo comporta che il tuo ultimo tentativo in Q3, beh, soffri quella pressione di doverti migliorare. Verstappen era già in pole, ha riuscito già a fare un ottimo tempo in primo tentativo, quindi il secondo è riuscito comunque a migliorarsi, quindi ha fatto un tempo capolavoro, ma non aveva quella pressione di dover per forza migliorare. Andiamo a vedere anche i tempi di Norris e Russell, poi andremo a vedere anche il passo gara, perché è fondamentale per vedere chi è favorito, ovviamente per vincere, per il podio e tutto quanto. Allora, vi faccio vedere i tempi di Norris e Russell, vedete come Russell perde tantissimo, soprattutto qui, curva 6-7, rispetto al tempo in cui Leclerc ha fatto l'errore, che è il tempo in bianco, Russell, vi ricordo, è quello azzurrino, vedete come perde in percorrenza, siamo sui circa 3-4 km di differenza, però forse anche prima perde anche un pochino di più. Rispetto a Sainz, in questo caso, nell'Apex siamo sui 13 km di differenza, c'è anche da dire che, andiamo un po' più nello zoom, così vediamo esattamente. Prende un... riesce a frenare prima la sua monoposto e quindi ha un Apex anticipato rispetto a Sainz, riesce ad avere una buona accelerazione, però perde troppo in ingresso. La Mercedes fa molta fatica in ingresso curva, in staccata, l'abbiamo visto principalmente curva 3, dove deve staccare per forza prima rispetto agli altri, vedete come Russell è quello che stacca prima rispetto a tutti e anche, l'abbiamo visto, in curva 11. Vedete come Russell stacca prima di tutti gli altri, specialmente di Vestappen e Sainz, in questo caso. E questo perché la V15 non dà quella confidenza di poter portare tanta velocità in ingresso, perché poi hai un sovrasterzo esagerato in uscita. Russell perde tanto anche nelle curve d'appoggio veloci, vediamo qui curva 9-10, come abbiamo detto più volte. Questa Mercedes, ragazzi, è abbastanza inguidabile. Se ci aspettavamo una Mercedes in lotta con Ferrari, è risultata ad oggi quarta forza dietro a McLaren, che ha fatto invece un ottimo lavoro, andando forte nel primo e terzo settore, non perdendo così tanto nel secondo, stando in linea con Mercedes, però avendo più carico aerodinamico. Quindi, se dobbiamo fare un paragone veloce, McLaren e Mercedes sul dritto vanno praticamente alla stessa maniera, hanno la stessa resistenza aerodinamica, che è di più rispetto a Ferrari e Red Bull, ma la differenza McLaren la fa in curva, specialmente nelle curve lente, che riesce ad andare più forte, ma anche nelle curve veloci va leggermente più forte McLaren rispetto a Mercedes. Andiamo a vedere anche il passo gara, che è fondamentale per capire quale team può andare più forte poi per la gara di domani, ed è interessante... Ah, vi faccio vedere anche il tempo di Perez prima. Così andiamo a fare un paragone tra il tempo di Perez, il tempo di Verstappen e il tempo di Sainz al volo, e poi andiamo a vedere anche il passo gara. Eccolo qui. Vedete come Perez perde principalmente nel curva 9-10 rispetto a Max, non riesce ad essere all'altezza, ultimo settore dove Verstappen è riuscito a migliorare molto rispetto anche a Perez, e perde anche qui in staccata di curva 1, l'ha detto anche lui che non l'ha fatta benissimo, insomma tanti errorini fatti da Perez che hanno comportato la perdita della seconda posizione che era fattibile per lui, quindi ha sbagliato un po' di cose, si vede anche qui dal grafico, anche qui in curva 3 perde tanto nei confronti di Max, nell'ultimo settore perde tanto in staccata, quindi curva 11, abbiamo detto anche in curva 13, quindi la penultima curva, insomma perde tanto nelle staccate, Verstappen ha fatto anche diversi errori. Quindi questa è la differenza tra i piloti in qualificazione, ora andiamo a vedere invece il passo gara, che è molto interessante perché andiamo a vedere quello di Sainz nei confronti di quello di Verstappen e Perez, perché Leclerc non abbiamo dei tempi di riferimento per il passo gara, essendo che ha provato invece, ha fatto un programma di lavoro leggermente diverso, soffermandosi più sul setup e anche sulla qualifica. Quindi andiamo a vedere un po' la simulazione passo gara, c'è da dire due cose importanti sul passo gara, che sia Verstappen che Perez hanno fatto una simulazione passo gara più lunga rispetto a quella di Sainz, che probabilmente va a meno benzina, e vediamo infatti nella simulazione passo gara, adesso un attimo che facciamo così, così si vede meglio, i giri di Verstappen e Perez a confronto, 22,8 di Verstappen, 23,1 di Perez, 22,8 di Verstappen, scusate, andiamo un attimo se riesco a zoomare, ok, poi 22,6 di Verstappen, 23,0 di Perez, 22, allora, 22,2 di Verstappen, 23,0 di Perez, 22,7 di Verstappen, 22,7 di Perez, 22,7 di Verstappen, 22,7 di Perez, 22,6 di Verstappen, 22,8 di Perez, 22,6 di Verstappen, 22, questo qua è quello di prima, 22,6 di Verstappen, 22,3 di Perez, poi, 23,1 di Verstappen, 23,6 di Perez, 24,0 di Verstappen, 24,0 di Perez, e poi, abbiamo, vediamo, 23,6 di Perez, mentre Verstappen era quello lì il suo ultimo tempo, sì, ok, questi sono i tempi dei piloti Red Bull, andiamo a vedere i tempi invece di Sainz, che ne ha fatti pochi in simulazione passo gara, ha fatto un 21,6, 22,0, 21,5, 21,4, lasciate stare la differenza in termini proprio prestazionali e di tempo sul giro, la cosa che colpisce è il degrado gomme di Red Bull, che sembra essere un pochino più accentuato rispetto a quello di Ferrari, Allora, secondo me, Red Bull rimane il team con il passo gara migliore, e rimane la favorita ovviamente per la vittoria con Verstappen, e anche per Perez, con Perez per la seconda posizione, perché comunque il passo gara tra i due non era così diverso, Perez può puntare a lottare per la seconda posizione, il punto è che abbiamo visto un po' più di graining su questa Red Bull, perché il graining si verifica con temperature basse, e comporta quella deformazione, diciamo, della carcassa che diventa un po' più rugosa, e quindi hai meno grip sulle gomme, questo l'ha riscontrato meno Ferrari, però aveva meno benzina, e ha fatto uno stint in simulazione passo gara più corto, con meno giri, quindi sarà un po' nincoint andando in gara domani, si farà la strategia ovviamente a una sosta, media, hard, non credo che nessuno azzarderà con la soft, fatto sta che vede un podio con Verstappen primo, secondo Perez e terzo Sainz, soprattutto anche per il fatto che Red Bull, essendo più efficiente in zona DRS, magari può avere qualcosina in più, c'è da dire che Ferrari sembra aver lavorato in ottica passo gara, per gestire al meglio le gomme, quindi magari potremmo vedere effettivamente un Sainz che riesce a tenere il passo di Perez, vedremo, vedremo, rimane un po' in incognita, per Leclerc partire quinto non è il massimo, perché deve comunque passare Norris, quindi vedremo un po' quanto ci metterà a passarlo e quanto ci metterà poi a lottare per il podio, però vedo Ferrari e Red Bull con Red Bull favorita, ma Ferrari non è tanto lontana sul passo gara, per quanto riguarda terza forza, vi dico, McLaren tutta la vita, ha fatto un passo gara ottimo e la vedo più convincente, e poi tra gli altri vi dico Mercedes con Russell, che sembra tirar fuori il massimo potenziale della vettura, rispetto a Hamilton che accusa un pochino più di distacco, quando una macchina è difficile da guidare, e poi Aston Martin e Racing Bulls e via via tutti gli altri. Ditemi anche il vostro pronostico del podio, quindi ho detto Vestappen, Perez, Sainz, secondo me, anche se magari Leclerc potrebbe arrivare terzo, perché Sainz, avendo avuto i problemi in seguito all'operazione, non so se resisterà per 58 giri con lo stesso ritmo, quindi vi metto o Sainz o Leclerc terzo. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, per non perdervi nessun video che esce qui sul canale, ogni settimana andiamo a commentare, ovviamente durante i weekend di gara, le sessioni, partendo dalle prove libere, poi le qualifiche e la gara con il post GP, vi aspetto ovviamente domani per il post GP, dove commenteremo tutto quello che è successo in gara, e anche il podio, le prestazioni di Ferrari e tutto quanto, e mi raccomando, attivate le notifiche, così venite sempre avvisati, quando esce un nuovo video sul canale. Seguitemi anche su Instagram, mi chiamo Il Rastro, dove pubblico contenuti a tema automotive e Formula 1, quindi mi raccomando, seguitemi anche lì, che vi avviso sempre, quando esce un nuovo video su YouTube. Ragazzi, vi ringrazio del supporto, come sempre, e ci vediamo quindi al prossimo video, al post GP della gara dell'Australia. Un saluto!